Non possiamo più ragionare in termini di eventi e considerarli sempre eccezionali, parlare di bombe d'acqua che fa molto effetto, ma dobbiamo pensare alla normalità ormai. E la normalità è sotto gli occhi di tutti, in Sardegna con le sue 16 vittime o nelle Marche solo una settimana fa con due persone morte nel Pesarese. La conta dei danni, a parte le mai risarcibili vite, è in atto. Mercoledì prossimo sarà fatto un primo bilancio, ma c'è un precedente. 40 milioni di euro solo per gli interventi di emergenza, sono quelli dell'alluvione del 2011, in quel caso si era portato dietro tre vittime tra il Fermano e l'Ascolano. In quel caso lo Stato ha riconosciuto 27 dei 40 milioni di euro. Ma si possono prevedere i disastri che arriveranno? In un certo senso sì, o meglio, si possono mitigare i danni. Lo strumento per farlo si chiama PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, indica le zone ad elevato rischio di esondazione, come questa di Osimo Stazione, alluvione 2006, oppure Genga in questa ultima tornata, o ancora Sforza Costa di Macerata. Le linee rosse indicano elevato rischio nel maceratese. In quest'ultima tornata le conseguenze elevate, esondazione del Chienti e danni alle strade, non sono previste. Le chiederebbe sicuramente uno studio più approfondito, anche alla luce di questi ultimi eventi. Anderebbe quindi rivisto. È come avere a che fare con un maratoneta e doversi di colpo abituare ad un centometrista, dice Mario Smargiasso dell'autorità regionale di Bacino, che si occupa del piano. Siamo abituati a fiumi lenti e danni più prevedibili, non a piene improvvise. Il PAI viene aggiornato e chiude, ma evidentemente non è sufficiente come strumento. Poi c'è il capitolo fondi, 4 milioni di euro di fondi FESR e la cifra che si vorrebbe destinare alla difesa del suolo per il prossimo anno. Ma per i prossimi sei anni la cifra, sentire i geologi, è irrisoria. Ci troviamo a ragionare con qualche decina di milioni di euro per risanare delle situazioni. Non sono cifre attendibili, dobbiamo ampliarle, dice Paola Giorgi, assessore regionale alla difesa del suolo, che prosegue. Abbiamo approvato come giunta un articolo da inserire nel bilancio 2014, una deroga che permetterebbe di manutenere gli alvei dei fiumi a partire da gennaio. Il problema chiude e che c'è una frammentazione delle competenze tra comuni, province e regione.